A Sala Consilina sono 404 i voti che hanno sancito la vittoria di Sala Viva sulla lista Salesi, capeggiata da Domenico Cartolano, che comunque è riuscita ad ottenere un risultato importante in un test a test al fotofinish e al cardiopalma, contando su 3.293 preferenze rispetto alle 3.697 della lista Sala Viva. Un risultato che seppur resta amaro consente l'entrata in consiglio di quattro componenti della lista Salesi. Accanto al candidato sindaco entrano a far parte della minoranza consigliare anche Antonio Santarsiere, Teresa Paladino e Angela Freda. Domenico Cartolano a bocce ferme riflette sul risultato ottenuto e anticipa la volontà di rappresentare un'opposizione costruttiva che abbia come finalità primaria garantire il bene del Paese e in tale ottica si dice anche pronto a collaborare con la maggioranza. Abbiamo perso in maniera netta, loro ci hanno suclassato nelle estremità a fonti, a viciliete e quindi recuperare più di 300 voti a due sezioni è stato quasi impossibile. Quindi va bene così, vuol dire che l'amministrazione uscendo è stata molto brava a concentrarsi su queste due periferie in cinque anni, quindi è stato un lavoro penso attento, continuo con la presenza al sito degli amministratori. La stessa attenzione che hanno messo lì la possono mettersi e sforzarsi anche sull'altra parte del Paese. Noi non faremo opposizione per una rivalsa o per una ripicca o per un'invidia per un risultato non raggiunto, questo non non mi appartiene faremo opposizione costruttiva. Qualora vi dovesse essere i provvedimenti e qualora l'amministrazione voglia dialogare con noi, loro l'onore di presentare le proposte perché loro hanno vinto e loro devono gestire giustamente, noi saremo pronti a discuterne e qualora vi fosse dei provvedimenti che noi teniamo giusti ed utili per la crescita del Paese, noi voteremo senza se e senza ma, in maniera chiara, convinta perché l'interesse del Paese viene prima dell'ambizione e dell'interesse personale. Al termine della lunga ed intensa campagna elettorale Domenico Cartolano non manca di ringraziare quanti hanno condiviso con lui il programma e le idee della lista salesi parlando di un forte attaccamento e intensi sentimenti di affetto che si sono instaurati tra i vari componenti della lista. Io ho avuto 16 compagni di viaggio ma non solo 16, il gruppo della comunicazione, i gruppi dei ragazzi che ci hanno aiutato in maniera gratuita, è stato un movimento bellissimo, una partecipazione favolosa, mi hanno arricchito perché ho trovato nuovi amici, perché da noi è passato prima il principio dell'amicizia e poi dopo quello politico, è andata benino non bene perché non abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ma è stata un'esperienza che mi porterò sempre nel mio cuore e che ricorderò sempre e ringrazio uno ad uno singolarmente per tutto il loro apporto e supporto che hanno dato a me e agli amici.